Vai Sandro, quando la conosci tu però fai andare lui e acculati lui perché è tutta è tutta così ma questa è quella che c'è a destra che sai, probabilmente si, vai a Turo Allora! Allora! hai passato fuori dritto da bo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.